In primavera la grande pallavolo maschile sembrava destinata a sparire. Ieri la Gassai Volley ha vinto la Coppa Italia di Serie A2, riportando così a Piacenza un trofeo di rilevanza nazionale. Vive e lavora a Pianello nel collettivo Cesura Lab. Gabriele Michalizzi, il fotografo, ferito alla testa in Siria dai colpi di Kalarnico, non sarebbe in pericolo di vita. Gli ispettori ambientali di IREN hanno triplicato le multe per coloro che gettano i rifiuti senza effettuare la raccolta differenziata. È composto da sette esponenti di centro-destra e da tre rappresentanti del centro-sinistra in nuovo consiglio provinciale, eletto dagli amministratori locali chiamati ieri al voto. Terzo pareggio consecutivo per in Piacenza, che ieri è stato fermato sull'1-1 interno dall'Albissola. I biancorossi restano secondi in classifica. Gol, immagini e commenti dalla Serie C alla terza categoria, questa sera alle 20.45 a zona calcio.